benvenute nel mio mondo creativo oggi andiamo a trattare di fiori visto che stiamo andando verso la primavera e occorreranno delle applicazioni da mettere nelle nostre creazioni e andremo a fare questi boccioli qui semplici vedrete che con pochi passaggi riusciremo a farli e li potete applicare sia sulle creazioni che anche realizzare dei veri e propri a porta chiavi io voglio anche con l'occasione ringraziare tutte le amiche che mi hanno contattato e con alcune ci sentiamo anche privatamente questa cosa mi fa veramente piacere è una cosa inaspettata sono molto molto felice e che dirvi continuate a seguirmi io sicuramente curerò le persone che mi hanno scritto in privato perché è nata una amicizia virtuale a cui tengo tanto vi abbraccio vi do una buona visione e se vi fa piacere potete condividere i miei tutorial nei vostri social in modo tale che potete aiutarmi a far crescere il mio canale io vi ringrazio vi abbraccio tutte e non perdiamo tempo bando alle ciance e oggi non accendiamo i motori perché si farà tutto con l'ago ciao ciao amiche allora il materiale che occorre per fare i boccioli sono dei quadrati di tessuto io utilizzato 8 per 8 ma potete modificare anche a vostro piacimento le misure l'importante che siano dei quadrati poi avremo bisogno per le foglie di un pezzetto di tessuto di panno questo pure le dimensioni le potete scegliere tranquillamente voi io vi dico adesso che utilizzerò una lunghezza di 12 centimetri poi la larghezza io la piego a metà e faccio a mano libera il disegno di una foglia lasciando un pezzettino unito ma questo lo vedremo in seguito poi avremo bisogno di un nastrino io ho utilizzato il nastrino ma potete utilizzare anche uno spago un cordice una corda insomma quello che preferite poi nel caso lo vogliate trasformare in un porta chiavi avremo bisogno del cerchietto del porta chiavi più un anellino poi ago e filo e si procede allora iniziamo subito a fare il primo bocciolo prepariamo il nastrino e tagliamo a 15 centimetri facciamo ad una estremità un nodo un semplice nodo poi prendiamo il rettangolo lo appoggiamo sul nostro tavolo andiamo il rovescio verso di noi andiamo a prendere un pizzo e lo pieghiamo in avanti formando un triangolo adesso andremo a prendere il nodino che abbiamo appena fatto e lo adagiremo sopra verso l'angolo così proprio come l'ho messo io poi cosa facciamo prendiamo questa punta qui e la mettiamo alla parte opposta a metà del lato che ci troviamo in diagonale facciamo la stessa cosa anche per l'altro pizzo sempre sul lato di diagonale e ci troviamo in questa situazione ecco qua adesso cosa facciamo prendiamo ago e filo eccolo qua scusate ma io ho fatto il nodo dalla parte più corta e andiamo a fissare il filo dopo aver fissato il filo andiamo a fare un punto filza ecco qua fatto il punto filza tiriamo per bene e facciamo girare intorno almeno tre volte dopodiché passiamo l'ago dentro al tessuto lo facciamo passare due tre volte poi fissiamo il filo e andiamo a tagliare ecco qua adesso cosa facciamo togliamo come vedete questo tessuto in più e ci troviamo esattamente in questa situazione adesso cosa facciamo andiamo a girare il fiore quindi il nodo rimane all'interno giriamo per bene ecco qua e il primo bocciolo è fatto eccolo qui avete visto quanto è facile è veramente facile ma sono di un effetto guardate veramente veramente carino poi appoggiato agli oggetti adesso facciamo il nodo dall'altra parte ma io siccome vi voglio far vedere utilizzandolo anche come porta chiave quindi prima di fare il nodo io vado a mettere nell'anello se no lo posso fare con le foglie no lo facciamo un altro cioè in un'altra tecnica allora facciamo il nodo dall'altra parte così ve lo faccio vedere due volte anche se è semplicissimo già avrete capito tutte però allora nodo prendiamo il tessuto 8x8 rovescio verso di noi un pizzo lo pieghiamo dall'altra parte formando un triangolo dopo di che prendiamo questo che già abbiamo preparato mettiamo il nodo verso il vertice di questo triangolo qui vedete poi cosa facciamo pieghiamo questa punta verso la metà del lato in obliquo e altrettanto facciamo con l'altro pezzo a questo punto ci troviamo esattamente facciamo uscire un po' il nastrino o lo spago secondo quello che avete scelto e ci troviamo esattamente in questa maniera a questo punto prendiamo lo fermo un attimo con lo spillo perché devo prendere il filo fare il nodo ecco qua adesso fermiamo il filo una volta fermato il filo facciamo un punto filza il punto filza lo facciamo qui in questa parte qui scusate ma io con le riprese ancora non sono bravissima vi chiedo scusa spero comunque di farmi capire ecco siamo a questo punto qui quindi noi adesso andiamo a tirare il filo vedete si arriccia giriamo il filo intorno due o tre volte dopodiché inseriamo l'ago dentro in modo tale che anche il nastrino rimane ben fermo adesso tagliamo filo facendo attenzione a non tagliare il nodo lo spostiamo un attimo e tagliamo l'eccesso di tessuto ci troviamo in questa situazione e andiamo a girare il fiore il bocciolo come abbiamo fatto per l'altro lo giriamo per bene eccolo qui sono pronti sono veramente si fanno in un attimo e sono veramente veramente carini cioè che gli vogliamo dire allora io per non annoiarvi a fare questi fiori perché avete visto ci vuole proprio un attimo ne ho già fatti altri due eccoli qua adesso cosa facciamo prendiamo il panno lo pieghiamo a metà poi partiamo da sotto e andiamo a fare una foglia l'importante adesso vi faccio vedere ecco io non faccio il cartamodello perché comunque vedete è proprio semplice l'importante è che rimanga qui sotto unito quindi queste sono le foglie adesso cosa facciamo se fosse solo decorazione così si fa direttamente il nodo su sui nastrini invece se vogliamo creare un portachiavi nell'anellino ci andiamo a mettere una foglia e la facciamo passare con un po' di pazienza ecco qua allora abbiamo fatto passare l'anellino dentro adesso cosa si fa si sceglie come far cioè come metterli a scaletta ecco più o meno ecco diciamo che ho scelto così adesso andiamo a metterli dentro e facciamo un nodo con le foglie scusate sto cercando di vedere anche in camera se sto riprendendo bene allora prima di chiudere controllate sempre la distanza se vi piace non vi piace ecco qua a questo punto ci piace la situazione andiamo a stringere per bene il pannolenci e il gioco è fatto ecco qui il nostro portachiavi è molto carino veramente è un amore questo guardate anche in una borzetta messo così di cucito in un angolo guardate che finezza a me piace tantissimo questo tipo di fiorellino è veramente veramente carino allora è un tutorial semplice ma credo che vi possa dar qualche idea per le vostre creazioni anche un pensierino per Pasqua perché no sono tutti li potete fare tutti colorati anche per disegna posto magari fate dei portachiavi e li potete mettere sul tavolo come piccolo pensierino veramente guardate con poco si può utilizzare in tante cose bene io vi saluto vi ringrazio che mi state seguendo vi abbraccio tutte se vi è piaciuto o non vi è piaciuto l'importante è che commentate in modo che mi fate sapere le vostre opinioni che per me sono veramente importanti vi abbraccio e al prossimo tutorial ciao amiche